Vi presento, sono Luca Carocci, basta così? Per me fare musica significa potermi esprimere, è il mio modo di stare al mondo diciamo questo è quanto, per me una canzone è un viaggio Che ne penso di Spaghetti? La prima volta che vengo è interessante, è bello avere un microfono libero questa sembra una banalità ma non è, in molti posti ci sono gemme con i microfoni non liberi e credo che sia bello vedere tanta gente che risponda a questo che ci sia tanta gente qui a sentire qualcuno che ha qualcosa da dire L'ho bevuta stasera? Tre necroni, si vede?